Buona giornata! Un vaso non si riempie se è già pieno. Siamo chiamati a riempire il vaso della nostra vita. Togliamo qualcosa di noi che non va oggi, ma per riempirlo di un qualche cosa di bello. Se vogliamo aggiungere qualche cosa di bello, dobbiamo togliere qualche cosa di noi che non va. E allora buon discernimento su ciò che oggi possiamo fare e quindi possiamo togliere qualche cosa di noi che non va. E' una grandezza, ma è soprattutto una grande consapevolezza sapere cosa possiamo togliere. Partiamo da lì, partiamo da lì. Cambierà allora anche il volto nostro, ma anche lo sguardo che diamo al mondo. Buone decisioni! Il Signore ti benedica!